Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Domenico, e io sono Marco, e già vado ad aprire il box perché ahia mi sono infizzato, che finalmente è uscito BT12, non potremmo perderselo al Day One, no? Esatto, perché bisogna di trovare il box, questo che ne trovi pochi, lo abbiamo preso, e lo stiamo registrando, la mia nominata era l'uomo delle secret e nemmeno quello più mi rimane, no? Attenzione perché in BT12, dillo dillo, in BT12 c'è nel box l'easeback di una aggiunta oltre ai pacchetti, ovvero un revival pack, da cui noi cerchiamo il Gohan ovviamente, no? Il casa? Meglio io cerco il Gohan. E invece ho trovato una carta orizzontale, le carte nuove di questo bella Demonic Restaurant. Io ragazzi ho aperto un box off video, e ho trovato un SCM, cioè la mia nominata era l'uomo delle secret e nemmeno quello più mi rimane, no? Era ora, dopo ho da BT9 che non ho trovato, e stavo ho trovato solo Domenico, le stavano, e va bene. Solo Domenico le stavo a trovare. Allora sa bene che ha trovato anche la secret che doleva, ha capito? Io pure ho aperto un box off video, e ho trovato questa. E quindi ora ce ne ho due. E quindi visto che, diciamo, il metodo dei pacchettini aperti e messi da parte funziona, Anche questo video sarà come gli altri video, ovvero prenderò le ultime due carte, le separerò da quelle altre, bla bla bla. Ormai lo sapete. Bambam. 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 Non ci vediamo ancora. Bambam. 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 A lura. Bambam. 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 e ultimo pacchetto 1 e 2 o ci siamo ragazzi abbiamo finito per i pacchetti e adesso prendiamo le file abbiamo una rapida passata le file domenica di sigla e tuttavia mente quindi ha bisogno che è questo ottio e strano poi qua con gelo finora ci sono sempre sono le file che cavolo vuoi ho una sbagliata solo una sbagliata e quindi pure ma c'è la sigla olè e che si inizia con la cosa c'è qualcosa una sbagliata ti tira c'è qualcosa rara rara scr r r r r r ti ansia che metti quando sp r bella poco piccolino che magnifica tanta roba r r r r mi sta mette l'ansia il tuo silenzio s r che però sembrava scr perché luccica suizio no no e luccica che faceva era stranissima o spr junior quando avanti così ragazzi r r r s r r r r e l'ultimo è un s r di tarles no è una pure tutto d'arles ok bene ragazzi se il video vi è piaciuto faccelo sapere con dei vi piaccioni commentate iscrivetevi al canale così vi arriva la notifichina vi arriva la notifichina del video quando esce seguiteci anche su instagram esatto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi